Era l'8 luglio quando ci trovavamo qui nel nostro club dei piccoli, l'asilo nido, quando ad un certo punto verso le 5 e mezza del pomeriggio è arrivata proprio una tromba d'aria. Quando la situazione poi si è calmata siamo usciti fuori, la nostra due cavalli charleston non c'era più. La mia Citroen due cavalli per me era la mia vita, una compaglia di vita di 30 anni ed era la mia macchina, mi mancava tantissimo. Guardando la situazione tutti ci dicevano che era impossibile e che sarebbe stata da rottamari. Alla fine ci ha contattato direttamente Citroen Italia, è venuto il carro a Trezzi, l'hanno portata fino a Cuneo da Franco Grosso che lui un pezzettino alla volta ha risistemato tutto e dopo circa un anno finalmente è arrivato il giorno bellissimo che la mia beppina mi viene riconsegnata. Citroën